Smettere di scorrere! Non giocare a questo gioco di notte è davvero terrificante! Si chiama Silent Castle e la vostra missione è quella di nascondervi da questi zombie. E avete solo 20 secondi! Tu e i tuoi amici dovete trovare una stanza in cui stare al sicuro. Puoi anche migliorare la tua porta o qualsiasi altro equipaggiamento per essere più al sicuro. Questo gioco di solito dura 5 minuti con una musica inquietante. Se pensi di avere le carte in regola per sopravvivere, scaricalo subito!